Mauro Biani, contastorie, satira, sculture e racconti per restare umani. Nome e cognome sono noti, Mauro Biani, premio satira a Forte dei Marmi nel 2007, è illustratore, bignettista, scultore, blogger, campione di satira sociale e politica. In mostra al Fortino le sue opere dedicate a legalità, pacifismo, diritti umani, disegni che sono un grido di rabbia, impotente ma vigoroso, contro ogni tipo di sopruso. In esposizione 200 opere, tra disegni e sculture, accompagnate da un catalogo con interventi di illustri amici e colleghi, Cecilia Strada, Pino Scaccia, Vincino, Stefano Disegni e tanti altri. Biani accompagna lo spettatore con una risata, a volte con un pugno dritto allo stomaco, oppure con una lacrima, con i sentimenti messi a nudo davanti ai fatti. Le storie che racconta appartengono a un mondo a volte invisibile, che spesso non viene rappresentato, ma che è l'autore è noto, popolato soprattutto di personaggi pazienti, buoni, vittime del mondo visibile, cioè noi, perché spesso i prepotenti siamo noi, con la nostra indifferenza. Biani, salutato dalla critica come autore dal linguaggio internazionale, passa dalla vignetta all'illustrazione, dal logo alla scultura, senza problemi di riconoscibilità. In poche parole, ha uno stile. La mostra è visitabile venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi, con orario 15 e 30, 19 e 30. Grazie a tutti.